Che cosa abbia fatto a Torino quella mezz'ora di tornado? L'abbiamo visto l'indomani. La bufera galopante a 200 chilometri orari ha massacrato i vecchi alberi. Uno spettacolo di schianti e di crolli. Incompetenti spiegano la tromba d'aria con un'isola di depressione ad altissima quota. Cinque i morti, numerosi i feriti. E a lei, alla mole, falciato lo stelo, spenta la stella. La vetta si è ripiegata in uno dei saloni sottostanti della RAI. Nata come pazia architettonica, era diventata l'emblema della saggia operosa Torino. Alzando lo sguardo si spera di ritrovare la guglia lassù. Rifiorirà. Lo vogliono i torinesi e con loro tutti gli italiani.